Avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 23 agosto Simone Pardini, residente a San Lorenzo a Vaccoli e grande appassionato di mountain bike. Ma un camion lo ha falciato sulla via Romana, in località Gossi, lunedì mattina, mentre si stava allenando insieme ad un amico. Il 16enne è morto sul colpo, il leso invece l'altro ciclista, un ragazzo di 19 anni, residente a Sant'Anna, è tesserato presso l'Unione Ciclistica Pistoiese. Per causa in corso di accertamento da parte dei vigili urbani di Alto Pascio e dei carabinieri della locale stazione, i due ciclisti stavano percorrendo la via Romana in direzione Lucca, quando all'altezza dell'incrocio con la via Romana Vecchia, un camion che procedeva nella stessa direzione avrebbe urtato Simone, scaraventandolo a terra. Immediati soccorsi, ma per il giovane non c'è stato niente da fare, ad un primo esame sarebbe morto sul colpo a causa della violenza dell'urto. Grande appassionato di ciclismo, Simone correva per la squadra High Bike Factory Team nella specialità della mountain bike, ma spesso si allenava anche con la bici da strada.